E nelle Marche? Gli animali esposti in questa sala raccontano storie antiche e moderne di ingressi di specie nuove per le Marche. In una modalità inclusiva la biodiversità delle Marche è a portata di tutti. Grazie al MUBI, il nuovo Museo della Biodiversità e Storia Naturale, si trova a Macerata ed è già un fiore all'occhiello. È la moderna espansione del Museo Civico di Storia Naturale sito in centro storico e nato grazie alla donazione della famiglia Desi, donazione di collezioni paleontologiche, zoologiche e geomineralogiche. Il MUBI è rivolto alla conoscenza della natura e dei protagonisti dei vari habitat. Ci sono spazi per fare laboratori e attività varie volte all'apprendimento, per scoprire, condividere e immaginare. Ovvero è proprio hub educativo, un luogo in cui si fa ricerca, dove accogliamo le scuole, dove accogliamo i gruppi nel piano sottostante per fare dei laboratori, fare delle attività di approfondimento e dove a rotazione verranno esposte parte della notevole collezione del Museo di Storia Naturale. In attesi ospiti, biodiversità in cambiamento nelle Marche. È il titolo della prima mostra allestita in occasione dell'inaugurazione del museo. Mostra per conoscere quali sono gli arrivi delle nuove specie nelle Marche, come ad esempio l'istrice, la zanzara tigre e il granchio blu. Specie animali che si sono insediate nelle nostre campagne, nel nostro territorio, che non erano sicuramente autotoni, ma hanno poi pian piano trovato il loro habitat. Per essere alla portata di tutti, dai bambini agli adulti, turisti compresi, l'ingresso al MUBI è gratuito ed è in una posizione strategica e ben raggiungibile. Siamo all'interno dell'ex casa del custode, che è dei giardini Diaz, è un edificio del 1888 che è stato completamente restaurato e rinnovato. È stato un lavoro molto complesso, ma di grande soddisfazione, proprio perché questo è un luogo baricentrico rispetto sia al parco di Fontescodella e al centro storico.